Nel nostro aeroporto non esiste più niente, è volato via tutto Ho iniziato nel 1990 con il deltaplano motore, ho volato con il deltaplano 4 anni, poi ho volato col P92 che vi ho fatto vedere per 20 anni Poi è arrivato il tornado, ha distrutto 7 aeroplani, tra cui il mio Guardate l'aeroplano lì, quello lì, il mio L'hangar non esiste più Non so di chi è, non mi ricordo Desfatti in cosa? Una tromba in aria ha distrutto tutto Io non posso stare senza volare e ho comprato quello nuovo L'aereo di prima era un po' più lento, questo va un po' più veloce e mi piace di più Sono robusti, sono affidabili, la facilità d'uso alle basse velocità, l'atterraggio in campi corti quando ne ho bisogno e la stabilità in volo Ho visto dei grandi cambiamenti nell'azienda e un grandissimo miglioramento nella costruzione del mezzo Le finiture, la solidità e soprattutto anche la linea dell'aeroplano È una grande passione, mi piace il volo, mi piace spostarmi in volo per il traffico perché è bello vedere dall'alto Mi piace molto volare in montagna, sulle Alpi, in Germania, è molto bello volare, mi piace volare È una liberazione, è un staccarsi, io vivo tutto il giorno in macchina, il mio lavoro si svolge in macchina, in furgone Tanto traffico, tanta congestione, tanta confusione, in volo ci sono solo io